attesa del terzo passaggio degli atleti c'è stata un'iniziativa di fuga primo giro secondo giro gruppo compatto sfilato in fila indiana siamo in una curva venendo giù dal castello bisogna frenare ancora una fuga roberto 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 marinoni in fuga fin dal terzo giro roberta marinoni in fuga borgo satollo ciclin ecco i primi immediati inseguitori bisogna stare molto ma molto attenti ecco vanno verso porta venezia stava concludersi il terzo passaggio degli atleti ecco che è concluso che è covazzato degli atleti gruppo sfilato in fila indiana ecco roberta goschi